buonasera a tutti benvenuti benvenuti alla diciottesima puntata della nostra sanità continua la pandemia avanza anche se è finita lo stato d'emergenza però a questo punto bisogna trarre un pochettino le conclusioni attualmente si parla della quarta dose ma si incomincia a pensare già a cosa fare a ottobre ottobre un richiamo richiamo con i nuovi vaccini della con le varianti poi in questa settimana è stato fatto un passo avanti per quanto riguarda la cura del proprio del coronavirus i nuovi farmaci antivirali quelli per via orale potranno essere somministrati da medici famiglia e questo qui ovviamente mette l'acceleratore al trattamento della cura che stava un pochettino al palo poi andremo a vedere e faremo un viaggio un po fuori dai nostri confini andiamo a vedere cosa è successo in svezia perché in svezia ci sta e c'è uno studio che è stato fatto dall'università del belgio unisita svedese insomma sono tre quattro università che l'hanno fatta e hanno visto che in svezia c'è stato un cattivo contenimento della pandemia sono stati degli atteggiamenti che non hanno assolutamente giovato alla popolazione locale tutto questo lo vedremo alla nostra sanità sigla ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mentre la pandemia da Covid-19 in Italia registra nelle ultime settimane curve in discesa, sia pure mantenendo numeri ancora alti in termini di casi e decessi, si affilano le armi in vista del prossimo autunno, quando la minaccia del virus SARS-CoV-2 potrebbe ripresentarsi. Sembra ormai quasi certo che la prima mossa sarà quella di rivaccinare la popolazione con un secondo richiamo, ma a partire probabilmente dai 50 o 60 anni di età, utilizzando i nuovi vaccini adattati antivarianti attualmente allo studio e che dovrebbero arrivare alla valutazione dell'Agenzia Europea del Farmaco entro l'estate. Ad annunciare le nuove strategie di contrasto al virus sono stati il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Locatelli, il Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco Magrini e il Direttore Prevenzione del Ministero della Salute Rezza. Altra novità annunciata dall'AIFA è che anche i medici di famiglia potranno dalla prossima settimana prescrivere i farmaci antivirali, ovvero le pillole anti-covid, da somministrarsi nei soggetti a rischio entro 5 giorni dall'insorgenza dei sintomi, e questi farmaci saranno disponibili nelle farmacie, accorciando così itere tempi burocratici. Il tutto mentre cresce l'allerta per l'emergere di nuovi varianti. Per la prima volta in Italia è stata isolata e sequenziata la variante del virus SARS-CoV-2 denominata XF, una sorta di fusione fra la Delta e la Omicron, è già diffusa in Inghilterra con circa 100 casi. Al momento però, ha rassicurato Locatelli, non vi sono elementi di preoccupazione. Allora, abbiamo visto che forse da ottobre si incomincerà. Benissimo. Di nuovo, il vaccino a vaccinazione penso anche da settembre, ma lo vedremo. Dottor Sabatini, buonasera. Buonasera a tutti, ma allora perché facciamo la quarta dose col vaccino vecchio? Ah, non lo so, guardi, intanto vi diamo la buonasera e poi vediamo pure quello. Dottor Buono, buonasera, Conte delle Due Sicilie, buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera a voi da questa città finalmente liberata dalle impalcature, dai sensi vietati, dai posteggi che mancano in relazione al famoso evento della Formula E. Quindi già questo di per sé mi dà un po' di sprint in più perché è bello vedere piano piano ritornare le cose alla loro normalità e spero che questo si possa dire presto. Anche per quanto riguarda una nota pandemia in cui sì, è vero che ci sono situazioni meno drammatiche, sì, è vero che fa un po' meno paura, ma nell'immaginario collettivo secondo me siamo andati un passetto oltre. Perché se io vado a vedere, e lo vedremo nel corso della puntata, l'impatto generale sulla popolazione e soprattutto il numero dei decessi, insomma, secondo me siamo in una situazione un pochino diversa da come un certo stato d'animo collettivo farebbe credere. Adesso dico una cosa cattiva, per quanto la popolazione, per quanto può essere, è fondamentalmente un po' inscenita dopo questa... Sì, che ha fatto male la pandemia. In collegamento da Milano, dottor Miserendino, gli annuncio che la prossima settimana la Formula E sarà sotto, dai parti del Pialbergo Trivulzio, da quelle parti faranno il circuito della Formula E della settimana prossima. Non me l'aveva detto il sindaco, un saluto da ficcanaso, non me l'aveva detto il sindaco, devo informarmi bene perché qualcosa ci sarà. Un po' di sofferenza pure per lei, insomma. No, beh, io vivo in un ponteggio che mi impedirebbe di fare ficcanaso negli orari meridiani e negli orari anche pomeridiani. Il problema invece è un altro, che questa pandemia purtroppo, sì, la popolazione si sarà inscemita, ma è finita al secondo posto dopo la guerra. E la guerra, siccome è un'escalation continua e non si sa dove va a finire, i giovani cosa fanno? Dicono la vita è breve, non abbiamo la vostra speranza di vita e quindi fanno in giro, in giro, in giro e sono tutti in giro. E siamo in giro anche noi anziani perché anche noi pensiamo che la speranza di vita vada a decrescere e quindi siamo tutti quanti a passare le notti e le sere, tranne quando non dobbiamo lavorare. È così, c'è una movida continua dalle mie parti e immagino anche dalle sue. Beh, sì, effettivamente c'è. Qui sotto stasera stanno perlomeno due o tre feste qua. Sì, ci sono la Spazio 900 che abbiamo qui sotto, abbiamo una discoteca, una mega discoteca Spazio 900, famosa in tutta Italia, che è stracolma. Ma poi nonostante, non solo la discoteca, anche lì mi fa un po' ridere perché dice mantenete la mascherina quando non ballate, la levate quando ballate, cioè quando alitate ve la levate, quando state fermi e potete distanziarvi tenetela. Insomma, capito, qui sono le classiche cose di via di mezzo, ma al di là di quello possiamo parlare anche degli stati pieni, che a Roma 65 mila spettatori domenica a vedere la partita della Roma, altri 65 mila adesso, e altri 65 mila... No, domenica prossima no, c'è il distanziamento sociale perché gioca a Lazio. Però che lì hanno il distanziamento sociale, sono tutti dei 1500 e non ce stanno. Però calcolando che se ne vanno in trasferta a Napoli, la Roma, e poi dopo ritorneranno. Quindi c'è tutto un rimescolio, insomma. Poi se non si mescano con i Laziali è meglio, insomma, il tuo Sabatino. Vedo da parte sua un leggero apprezzamento per i colori giallorossi. Non ho capito per quale motivo, però io e Mauro abbiamo solo una parte dei suoi colori, il rosso, e l'altro il nero, per cui... Eh, perché è stato al lutto. Esattamente. No, probabilmente è stato al lutto con la perdita di Donnarumma che secondo me era al compone convenuto. Vabbè, a parte questo qui... Secondo me, Begnanna, ora come ora si comporta molto meglio. Poi il Donnarumma sarà un campione, non lo metto in dubbio. Vabbè, comunque, a parte questo, allora... Annunciato adesso, ho annunciato proprio questa... Non so se questa mattina o ieri, ma comunque ieri, è annunciato proprio che ad ottobre noi faremo la dose supplettiva, no? Oppure la nuova dose, no? Io penso che sia la nuova dose con la variante, no? Da quanto sono riuscito a capire nell'ambito della confusione. Però stavolta hanno parlato, mi pare, Brusa Ferri, hanno parlato Magrini, quindi due persone assolutamente autorevoli, hanno detto che stanno preparando i vaccini adattati a queste nuove varianti che quindi copriranno anche, diciamo, le situazioni che da un anno a questa parte del Covid sono andate modificandosi. Dicono pure che però la dose booster è assolutamente protettiva nei riguardi di quello che succede, ma stiamo sempre parlando della situazione di evitare le morti o di evitare ricoveri in terapia intensiva. Tutto questo mi sta bene. Se era parlato di questo vaccino nuovo verso la primavera da parte di Pfizer probabilmente slitterà ancora un pochettino, però in tutto ciò, ripeto la domanda che ho fatto prima, che senso ha spingere a fare la quarta dose ai soggetti fragili, a quelli, diciamo così, ultra 85 anni, con un vaccino che ormai è il vaccino del primo Wuhan? Quindi, non lo so, forse sarebbe meglio aspettare, visto che non c'è da aspettare tre anni, ma c'è da aspettare due barra tre mesi, forse è meglio di aspettare un po' di più. Non lo so, però su questo non mi pare abbiano dato assicurazioni. Non hanno dato grosse assicurazioni, non è che hanno dato grosse assicurazioni, perché c'è il problema grosso che adesso i dati delle terapie intensive incominciano a propendere non soltanto sui non vaccinati, ma su anziani, non tanto poi immunodepressi, quanto che hanno fatto la terza dose booster lontano, quindi questa potrebbe essere una situazione tampone. Diciamo che avanza la Macedonia in frigorifero, No, 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 perché probabilmente, no, no, probabilmente, siccome si sta, allora, bisogna vedere come lo risolviamo il problema, perché noi abbiamo degli anziani vaccinati da lungo tempo che stanno afferendo in terapie intensive, come lo risolviamo questo problema? Visto che ancora non ci sta quel lato con le varianti? Sì, effettivamente è un problema importante. Noi non siamo in questo momento in condizioni di poter avere un vaccino aggiornatissimo, ma questo, in fondo, rientra in quello che è il canovaccio di quasi tutte le infezioni virali. Se noi pensiamo all'influenza, siamo abituati che ogni anno i vaccini vengono fatti in modo diverso, perché devono tenere conto di delle previsioni, dei ceppi maggiormente patogeni, eccetera, eccetera. Questo non mi meraviglia. Così come non mi meraviglia neanche la regola generale che a distanza di un vaccino il tasso anticorpale vada a decrescere. Certo, a noi tutti piacerebbe che questo tasso rimanesse a livelli tali da durare per tanti anni, come avviene per esempio per l'antitetanica, ma questo, con i virus in genere, con questo particolare virus in particolare, non è al momento possibile. registro quindi il tentativo di poter in qualche modo sollecitare in un modo semispecifico l'immunità indotta nelle persone anziane e nei cagionevoli, perché abbiamo visto che in queste persone l'immunosenescenza, cioè il processo di invecchiamento delle cellule depositarie della memoria immunologica, è più accentuato, quindi il vaccino provoca la formazione di anticorpi che restano meno nel sangue e sia un po' una spintarella, una via di mezzo tra quello che è il cosiddetto, vi ricordate i risati batterici, quindi quella sorta di immunostimolanti aspecifici che servono per smuovere in senso generale la reattività immunologica e il vaccino altamente specifico che invece sarebbe quello che da ciò che si è capito dovrebbe partire a ottobre. Quindi tutto sommato non mi sembra un qualcosa che dia delle garanzie, può dare forse qualcosa in più per quello che è il rumore anticorpale di fondo. Se lei mi consente, dottor Buono, sono d'accordo con quello che dice lei, però ne parlammo anche qualche tempo fa con Mauro che propendeva, se non ricordo male, Mauro poi mi correggi se sbaglio, più per la terapia dei casi necessitevoli piuttosto che la vaccinazione comunque sia ha bisogno di un certo tempo, cioè l'anticorpo non è che lo produce in 4 e 4, 8. Quindi visto che il virus gira, vedremo poi i dati ancora sono abbastanza alti sui contagi, forse sarebbe il caso, fermo restando l'attenzione, come possibile, su tutto quello che abbiamo detto fino adesso, di curare bene quelli che si ammalano piuttosto che vaccinare con un vaccino vecchio quelli che potrebbero ammalarsi. Io la penso così, non so Mauro che ne pensi. E ha fotografato perfettamente quello che ho detto io la volta scorsa, è chiaro che devo tenere conto, oggi noi non sappiamo se siamo stati meglio prendendo il covid perché eravamo vaccinati o perché questa malattia si è un po' più abituata all'uomo e va meglio. I decessi degli anziani fanno pensare però alla prima delle due soluzioni, cioè che quando c'è meno vaccino le cose vanno peggio e quando finiscono gli anticorpi le cose vanno peggio. È difficile svezzarsi dal vaccino a quanto sto capendo e effettivamente Macedonia o no il comitato tecnico scientifico è ancora propenso al vaccino. Io dico se ci sono delle situazioni immunitarie particolarmente problematiche ci sono dei pazienti che col vaccino rifioriscono ed altri che invece gli crolla qualche certezza. Non voglio essere Novax però insomma mi avete capito. E allora il problema è ma siamo cioè riusciamo prima di dire che il vaccino non va usato riusciamo a trovare il discrimine perché una persona che ha una malattia ematologica vaccinata mi crolla e un'altra persona invece è perfettamente protetta è la stessa malattia qual è il discrimine? Se riusciamo a trovare queste risposte allora effettivamente c'è il margine per vaccinare tranquillamente a occhi chiusi se no c'è il margine per alimentare i sospetti a fronte di una positività a fronte di una beneficialità che decresce e allora a questo punto il miserendino che è fifone dice viva i farmaci ecco questo è facciamoci farmaci facciamo l'anticorpo monoclonale perché poi anche quello è proprio in questi soggetti che hanno un calo dei rinfociti eccetera hanno però un giovamento ecco questi sono dei quesiti che mi pongo e quindi oggi prendo un po' l'argomento del dottor Buono però rimango sulle mie posizioni che ci vorrebbe o una forza per dire evviva il vaccino su queste persone o altrimenti andiamo sui farmaci almeno per la quarta dose per il richiamo è tutto un altro discorso almeno fino a questo momento va beh quello si vedrà però insomma effettivamente c'è ragione se abbiamo dei farmaci che possano prevenire intanto usiamo quelli poi nel frattempo aspettiamo il vaccino quello con le varianti che quello ovviamente dà uno stop incomincia a dare uno stop grosso perché sì arriviamo con una variante XI che è incombente un Omicron 2 però siamo sempre lì se io faccio una vaccinazione contro la Delta e Omicron è più complicato che la miccola variazione di ha problemi grossi nella successiva ma è chiaro poi che comunque visto che i vaccini funzionano e i dati sono incontrovertibili un vaccino tarato sulle nuove varianti che sono uscite l'altro ieri avrà sicuramente degli effetti molto più positivi su tutti colori i quali si infettano con quelle varianti che stanno scendo adesso si è un micro 1 o micro 2 la XI prima il servizio parlava dell'XF non ho capito ce n'è un'altra ancora ho sbagliato quella lì la XI e la XF ho sbagliato la XF non credo che c'è via non so se che parlava solo dell'Inghilterra 100 casi in Inghilterra sì l'XF però l'XF dice metà omicron 1 metà omicron 2 e quell'altra infatti è metà omicron 1 metà omicron 2 quindi adesso intanto noi vediamo la XI poi la XF l'ho letto questa è la XF e mi ha nati lasciato perplesso devo andare a approfondire la questione però adesso a questo punto siamo su una strada che dice vaccinazioni o terapia però la terapia a un certo punto ci si sposta adesso andiamo a vedere vediamo i dati della pandemia così ci rendiamo conto di dove siamo vediamo un attimo i dati totali eccoli qua questi qui sono i dati totali vedete 62.037 155 decessi non si riesce da una tappia da quei decessi non ci scogliamo è un po' è un elastico che va tra 60 e 70 mila poco più poco meno i deceduti spiorano le 200 unità scendono al di sotto 300 anche sono negativi siamo lì sono negativi ricopri sono negativi le terapia intenzie cosa vuol dire vuol dire che la gente si infetta comunque ma si infetta meno gravemente io stesso oggi ho studio ho avuto 6 nuovi 6 nuovi casi e non diminuiscono sono tutte persone devo dire abbastanza giovani io ho avuto nell'ultimo mese pochi anziani e quasi tutti giovani tra i diciamo tra i 18 e i 30 anni che praticamente non hanno quasi sintomi una leggera febbricola molto mal di testa un raffreddamento ma senza quei sintomi così patognomonici che prima riconoscevano il covid ad esempio adesso continuano ad avere il gusto e olfatto quindi sono sicuramente meno però ci sono cioè 65 75 80.000 69.000 72.000 120 150 180 morti il problema non è tanto la gravità a parte la gravità è un zoccolo duro che non si smuove è che non si smuove ma ovviamente anzi io speravo pensavo no pensavo temevo che schizzassero ancora di più con la faccenda degli stati delle feste eccetera sono sicuro che con quelli che non autodichiarano il numero l'abbiamo già detto è sicuramente più alto questo è molto più alto perché andiamo a vedere un attimo l'andamento dei casi proprio il grafico così andiamo a vedere questa curvetta che ci sta caratterizzando che si sta sempre profondando sempre lì doveva scendere però in realtà non scende lo vediamo rispetto allo scorso anno ovviamente lo scorso anno erano di meno però quello non dobbiamo dirlo perché c'era facendo dei tamponi che erano molti di meno i tamponi fatti lo scorso anno quest'anno sono molto di più siamo intorno a sempre 400.000 al giorno sì adesso perché quando lo scorso anno 18.000 sì no lo scorso anno però erano 20.000 una cosa così una cosa tristissima quindi era tutto un'altra questione però andiamo a vedere anche i deceduti che qui ovviamente il problema grosso è questo plafond che non vuole scendere lo vedete come dicevo poco fa sale e scende sale e scende in un piccolo è una piccola fisarmonica non è che c'è quel colpo che ha avuto lo scorso anno lo scorso anno sotto si vede lo scorso anno è crollata proprio poi andiamo a vedere il tasso di positività che più o meno rispetto allo scorso anno è quasi combacia proprio lo scorso anno siamo sempre tra il 14 e il 15% combacia lo scorso anno le terapie intensive e questo attenzione è un dato che lo dobbiamo andare a vedere e poi ci colleghiamo anche a quello che dobbiamo dire guardate le terapie intensive confrontatevi con lo scorso anno è andato a vedere cosa succedeva lo scorso anno le terapie intensive non è come i tamponi che vi hanno fatti i numeri di casi queste sono certe dietro ci avevamo due montagne qui abbiamo una montagnola e qualche picchetto piccolo 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 però siamo sempre lì anche questa curva si è plafonata significa che siamo in una situazione di stallo dove non si va né decisamente avanti né decisamente indietro è vero che la temperatura a cui molti studiosi fanno risalire un rapporto inverso tra il numero di casi e aumento della temperatura però sicuramente siamo bloccati ultimo dato poi andiamo da Michelendino per commentarli perché l'influenza il primo grafico dell'influenza lo mettiamo e questo qui praticamente se voi guardate la riga dietro quei puntini è l'influenza di qualche anno fa no lo scorso è quella sotto nel 2019 c'è stato proprio qualche anno fa ai primi di aprile l'influenza era praticamente scomparsa mentre qui sta risalendo allora io volevo far vedere un attimo una cosa perché noi siamo riusciti a fare una cosa siamo riusciti a sovrapporre i due grafici quello dell'influenza e quello del cov andate a vedere se poi non sono state le mascherine che hanno causato tutto guardate un pochino che cosa è successo che nel momento in cui è salita è risalita la cosa la curva è risalita pure l'influenza questo vuol dire che c'è stato un abbassamento delle difese rispetto anche all'influenza perché il covid vabbè c'è la risalita perché c'è la variante ma l'influenza sale nel momento che circola ma ci sarà anche rispetto allo scorso anno che eravamo in lockdown una sinergia opportunistica tra le due può darsi pure l'abbiamo detto già è stato così chiacchierando dottor Viserendino dati interessanti questo direi sì c'è la tesi più intelligente è che abbiamo dismesso le mascherine e quindi hanno ripreso a crescere sia l'influenza sia il covid la tesi più affascinante è quella appunto che diceva il dottor Sabatini e cioè che l'influenza si sia abituata al covid e quindi a questo punto il covid non la possa più ricacciare indietro e questa era è un'ipotesi che è leggermente diversa dall'insieme influenza covid cioè la stessa malattia influenza covid è qualcosa per cui però non la esclude quindi questo è un dato interessante poi c'è un dato interessante negli andamenti io vorrei essere ottimista e poter dire che questo questa questa positività che non scende più tutto sommato può voler dire che c'è una fluidità totale del virus e la cioè va a tutte le età colpisce a tutti ma proprio in questo momento colpisce per fasce d'età picchiando duro sui giovani ma tutto sommato su tutte le classi e questo diventerebbe confortante tutto sommato nella tristezza sapendo che il numero dei decessi è fisso sì ma le terapie intensive sono in calo e rispetto all'anno scorso drammatico e comunque sono in come dire sono in calo rispetto ai decessi che significa che portiamo le situazioni in un modo diverso non andiamo come dire probabilmente i decessi impattano di più sulle terapie intensive però ci sono delle situazioni in cui tutto sommato la terapia intensiva è uno zocco duro molto sottile i decessi stanno immediatamente sotto ovvero a dire quasi tutte i decessi vengono dalle terapie intensive e in ogni caso il decorso della malattia non va più quel 15% quel 10% quell'8% in terapia intensiva e molto molto meno somiglia al decorso dei decessi e leggermente diverso al decorso dei decessi perché qualche decesso sfugge anche alla terapia intensiva e poi Mauro c'era anche un'altra cosa con la quale stavo pensando allora i dati dicono che un italiano su quattro non si è ancora mai ammalato quindi diciamo se ne sono ammalati tre su quattro ma di quei tre su quattro molti si sono ammalati due o più volte mentre una parte non si è ammalata mai allora evidentemente ci deve essere qualcosa di strano per cui c'è una sorta di protezione da una parte e invece di non protezione dall'altra perché queste reinfezioni altrimenti non riesco a spiegare esiste un'immunità naturale a specifica che i cui meccanismi non sono poi definitivamente noti che è costituita da tutta quanto una serie di cellule dell'organismo che sono deputate ad alcuni in modo maggiore in altri in modo minore alle prime difese e tutto quanto questo ha la sua importanza ha la sua importanza l'assetto costituzionale dell'individuo il tipo di vita che fa e per cui un rapporto lineare e preciso tipo quello che vediamo sui diagrammi cartesiani in questo ambito al momento è molto molto difficile da fare sarebbe interessante anche vedere curve di mortalità riguardanti l'epoca pre-covid anche per cercare di dare una dimensione a questo terribile bilancio di 150 decessi al giorno che è l'unico dato certo costante che purtroppo non riusciamo ad abbassare qui però impattano tantissimi fattori mi sembra di poter dedurne l'ovvia regola che chi parte da posizioni peggiori dal punto di vista del proprio assetto e sappiamo che aumentando chiaramente l'età aumenta la presenza di più patologie nella stessa persona in questo giochi un ruolo determinante non soltanto per quella che è la resistenza dell'individuo ma anche per quella che è probabilmente questa immunità generale naturale che risente negativamente sia della qualità delle cellule che ne sono deputate penso a macrofagi alcuni linfociti sostanze chimiche e sia per quello che è la capacità proprio di poter mantenere gli apparati nobili quindi segnatamente l'apparato cardiocircolatorio e l'apparato respiratorio a livelli di funzionalità di resistenza e qui è il caso di dire di resilienza reale resilienza efficace per cui la differenza credo che sarà forse un domani si riuscirà a capire bene i meccanismi precisi ma oggi purtroppo dobbiamo rinunciare dobbiamo soltanto prenderne atto e cercare chiaramente di favorire qui viene tutto quanto il discorso dei farmaci chi comunque magari è soggetto di più a queste situazioni poi c'è anche il fattore C mi viene da pensare che ogni mese ogni mese la nostra Italia un paese una cittadina tra 4.500 e 6.000 abitanti scompare dalla cartina geografica ed è un dato che non si può non non sottolineare perché da 4.000 e 6.000 cittadini che muoiono ogni mese sono veramente troppi da digerire noi da una parte abbiamo gli eccidi della guerra parliamo di cifre abbastanza simili e non ridiamo dobbiamo pensarci fino adesso tutto quello che stiamo facendo non riduce questo paese che ogni mese muore per questo io dico attenzione alla raffreddoria perché questo è costante nel tempo allora abbiamo parlato dell'andamento abbiamo parlato della questione delle vaccinazioni torniamo ad andare a vedere adesso la questione della terapia e qui incominciamo a dire che qualcosa si muove si è mosso prima insomma bisogna vedere poi se la cosa è efficace allora andiamo un attimo in stop e poi rientriamo subito in studio un attimo un attimo Semplificazione per l'impiego degli antivirali nei pazienti che rischiano il Covid savero. La novità è stata annunciata dall'Agenzia Italiana del Farm che dovrebbe dare il via libera alla prescrizione ai medici di famiglia dei nuovi farmaci antivirali orali. Un processo che snellirà l'accesso ai farmaci che sono vincolati nei cinque giorni successivi l'avvenuto contagio. Il farmaco potrà essere somministrato solo in soggetti con particolari fattori di rischio per malattia grave ovvero le stesse indicazioni che erano già specificate nelle precedenti disposizioni che permettevano l'accesso ai farmaci attraverso un filtro ospedaliero che però spesso ritardava l'accesso per problemi di soraffollamento e burocrazia. Allora farmaci antivirali, dottor Miserendino, 200.000 farmaci ordinati, quasi meno di 20.000 che sono stati quelli utilizzati da quando li hanno ordinati. Quindi vuol dire che c'è un sottutilizzo grande quanto una casa, 86.000 casi con gente ricoverata e quindi un grosso sottutilizzo. Io ho visto gli infettivologi che hanno preso posizione nei confronti dei medici di famiglia che esultavano perché dicevano che soprattutto il dottor Bassetti almeno le dichiarazioni su ADN Cronos sono che tutto sommato questi farmaci non si deve dare il via a una prescrizione indiscriminata, ci vuole anche un controllo dell'infettivologo o comunque dello specialista. La difesa del territorio. No sentiamo perché lui è la... Dottor Miserendino lo finisca perché così vediamo un attimo... Ecco la volevo nobilitare, mettiamo che non sia una difesa del territorio, io però vedo che finora era stato prescritto meno e pare che nei paesi dell'Europa dove, però io adesso non sono andato a approfondire quali, quindi sto dicendo una cosa che non ha mie fonti, non ha fonti che ho visto io, ma dove è stata più allargata la prescrizione, dove è stata resa più accessibile insomma non è che è aumentata in maniera esplosiva, indiscriminata da Corte dei Conti locale, per cui io penso che ci fosse bisogno di avvicinare. Una cosa si deve prescrivere entro cinque giorni dall'esordio, cioè entro cinque giorni dall'esordio significa che alcune persone non hanno pensato di andare all'ospedale, non hanno pensato che la loro patologia è grave, addirittura alcuni la intercettano tardi, quindi attenzione, cioè ci sono delle cose per cui non veniva prescritta in tempo e c'era un periodo finestra troppo breve, quindi la medicina generale dovrebbe ovviare a questo e temo che la medicina generale non è che la farà esplodere, resterà ancora per un pochino sotto soglia. Perché questo? Perché io non sono così sicuro che i medici di famiglia prescrivano occhi chiusi, ma anzi penso che siano molto prudenti perché una fetta di loro non ha neanche il gestionale per dire che il paziente ricade proprio nella finestra per cui bisogna dargli l'antivirale. Quindi non so quanto bisogna avere paura del medico di famiglia, quanto l'infettivologo deve ammonire a mettere lo specialista accanto al medico di famiglia, il tutoraggio, eccetera. Quindi speriamo invece che si prescrivano di più i farmaci e che guariscano di più le persone. Ma sa Mauro, sul gestionale io credo, da quelle che sono le notizie che abbiamo noi ai medici di medicina generale, che quasi tutti in Italia abbiano un gestionale in grado di dare quelle informazioni. Bisogna poi stabilire se tutti i medici siano in grado di sfruttare il loro gestionale appieno per averle. Il discorso invece che facevo malignamente io poco fa sulla difesa del territorio è perché non è la prima volta che situazioni in cui la medicina generale poteva intervenire prescrivendo a fianco, non al posto dello specialista, siamo stati bloccati per difese di parrocchia, per paura di perdere una fetta di mercato che comunque avrebbero, perché il problema non è tanto che il paziente venga da me o venga da lui, è che il paziente viene da me fino ad una fase della sua malattia, poi va dallo specialista nella seconda fase. Mettiamo un diabetico, il diabetico sta da me fin tanto che è compensato. Lo mando dallo specialista quando la sua situazione necessita di un livello di competenza superiore. Quindi dare un numero di farmaci maggiore intercetterebbe questa malattia in molti casi. Poi se questo significa spendere qualcosa in più, ricordiamoci che i primi farmaci che sono stati usati per la prima variante, per la Vuan, ancora stanno tutti nei frigoriferi. Quindi se si spende qualcosa in più di quel che è stato acquistato, ben venga. Cioè è una paura che non mi sento di condividere. Una cosa, così poi dottor Buono gli devo lanciare questo. Allora, una cura mi sembra che costa intorno a 700 euro circa, mi sembra, no? Siamo a quella cifra lì, no? Conferma Mauro da Milano che ne sa più. Confermo? Allora, se io metto in cura 10 pazienti... Eh? Quanto? Ne so quanto dei, nel senso che sono tra 660 e 700... No, beh, in circa io faccio, non è che... non costa 20.000 euro, diciamo, costa 700 euro circa, 800, 750, quello che è. Insomma, quella cifra lì. Allora, se io 10 persone, no? Le metto sotto terapia, no? E di quelle 10 persone ne guariscono due? No? Mettiamo cosa impossibile perché giustamente se ne vedi in tempo magari so di meno quelle cose, no? E quelle due persone non sono andate a occupare un letto dell'ospedale, non sono andate a occupare una terapia intensiva, forse. Quindi, allora, statisticamente parlando, se io da domani cominciassi anche a usare la stravacca... Il risparmio è netto, perché, cioè, a parte che usare la stravacca no, perché ci sono determinate indicazioni di scheda tecnica che vanno rispettate e che saranno sicuramente rispettate. Ma, capito, dire che è un po' cessivo, perché qui parliamo di una spesa sanitaria, no? E' questo. Un giorno di terapia intensiva quanto costa? 3.000 euro? No, ma sicuramente... 3.000 mi sembra, no? Mi sei rilassato, quanto costa un giorno di terapia intensiva? Me lo ricordo. Questo me lo ricordo, comunque... 3.000 euro è una cosa che mi sono già sprovati a questo... È di contorno per forza. Sì, ma io non vorrei una cosa... Io non credo che ci sarà questa esplosione e credo che, come sempre, quando c'è un'innovazione, questa innovazione deve essere eseguita indipendentemente da quelle che sono le posizioni specialistiche di partenza da un'adeguata azione formativa. Per cui è chiaro che l'elemento formativo all'utilizzo di un farmaco importante è un passo imprescindibile. Non può limitarsi alla lettura della scheda tecnica, ma probabilmente ci vogliono... Oggi abbiamo tutte queste possibilità di organizzare anche eventi online, quindi fare anche eventi di massa che diano delle indicazioni precise in materia, può essere utile per tanti. Una cosa però non vorrei. Non vorrei che, alla fine, il meccanismo, chiamiamolo di calmiere della temuta prescrizione in massa, anziché di essere su basi rigorosamente scientifiche e formative, sia sulla burocrazia. Cioè, io ho recepito molto positivamente questa notizia, però è una notizia. Adesso voglio vedere l'applicazione pratica per come passa, per quali moduli, per quali procedure, per quali trasmissioni. E non vorrei che si cercasse di trovare nella burocrazite vera e propria infezione di questo paese, purtroppo anche più persistente del coronavirus, debba assumersi la funzione di essere il discrimine dalla temuta prescrizione di massa. Io non vorrei, insomma, che si riproduce sia ogni tanto un esempio che faccio. Avete presente quel magnifico affresco di Raffaello Sanzio, la scuola di Atene, in cui si vedono Platone e Aristotele che camminano vicini, contornati dalle rispettive scuole degli allievi. Uno che è Platone, che indica il mondo delle idee, che è la sua poetica, che è l'essenza della sua filosofia. E vicino Aristotele che sta così, sta come per dire limitiamoci a ciò che è su questa terra. Tradotto in termini farmacologici, da fin da quando sono state introdotte le note, noi siamo abituati a vedere queste due mani. Uno che dice prescrivi questo farmaco che è nuovo, l'altra mano che dice no, però non lo prescrivere perché costa troppo. Io vorrei che questa antinomia finisse, il ragionamento finisse a essere posto su basi rigorosamente scientifiche e su quelle si facessero le verifiche, i risultati, le valutazioni, le richieste di chiarimenti, se si verificano dei picchi anomali. Ma non vorrei che ad assumere questa funzione fosse l'ennesimo atto burocratico. Ma lo sto dicendo unicamente a livello preventivo, non ho ancora visto come sarà e non credo neanche voi questa distribuzione. Se noi vediamo l'andamento delle spese dei farmaci in Italia, anche non recentissima, di qualche anno fa, non è che ci sono degli sforamenti sulla medicina territoriale, sulla prescrizione territoriale? Degli sforamenti che giustifichano un atteggiamento difensivistico da parte dei professori, io l'ho sentito uno un altro giorno, sa perché questi farmaci hanno degli effetti collaterali che se non sei specialista non ricapisci. Come se il medico, io ho due specializzazioni, lei dottor Buono ce ne ha due, come se noi fossimo dei deficienti, dei minus abbians, i quali se no sanno riprescrivere quello prescritto dal professore specialista e non si rendono conto di eventuali complicanze. Usciamo un pochino da questa sciocchezza concettuale e diciamo che la medicina territoriale non ha assolutamente aumentato i costi, siccome la medicina territoriale è fatta dalla medicina generale e della specialistica ambulatoriale, la maggior parte sono la medicina territoriale, quindi i medici di medicina generale, quindi i medici di base, questa grossa spesa non c'è, quindi questa difesa del territorio io la trovo se non altro. in questo momento fuori luogo e corre il rischio di creare figli e figliastri in un momento in cui invece dovremmo agire tutti insieme. Che poi io quando mi introdotto i monoclonali e le hanno dati su prescrizione ospedaliera, non è che mi sono lamentato, anzi ho giubilato perché avevo una via d'uscita per determinate persone che avevano i grossi problemi. Però come mi hanno scritto adesso, anzi l'sms lo rimettiamolo sopra così mettiamo sotto pancia 3424153637, come mi hanno scritto adesso, che ho letto mentre parlavate, molti mi dicono che hanno segnalato una persona che l'hanno chiamata dopo due giorni, ora se io ho dieci giorni di tempo per vedere la persona e per iniziare una terapia lo capiscono, ma quando sono cinque giorni il primo giorno uno si rende conto che la persona forse ha qualcosa, il secondo giorno questa persona va a fare il tappone, gli viene positivo, fa la segnalazione, viene richiamato dopo due giorni, sta al limite dei cinque, alcuni non ci sono arrivati. Sì, è successo anche a me. Non so se è successo anche a me, mi hanno segnalato, quindi la tempistica è stata lunga, al di là del poi essere segnato giusto o non giusto, perché io penso che la giustezza la dà un'esperienza professionale che non ce l'ho né io, né lei, né il dottor Sabadini, ma neanche il professore universitario è stato dall'altra parte e qui si sono fabbrici usciti adesso. Tra l'altro dottor Piero, la segnalazione la facciamo noi, la segnalazione la facciamo noi, le schede che arrivano negli ospedali dove danno i monoclonali le facciamo noi, quindi alla fine loro non fanno altro che avallare una scelta che già ha avuto come primo un muovo in seguito del medico di famiglia. Non mi risulta che siano stati bocciati tantissimi casi inviati. No, no, tutti hanno fatto a me. E quindi allora sta in iperprescrizione da parte del medico medicina generale, ritorno al discorso prima, mi sembra una difesa del territorio. Quelli che sono stati bocciati, e poi do la parola a Mauro a Milano, quelli lì erano solo esclusivamente persone che sono ormai arrivate in ritardo e che hanno detto che ormai la sintomatologia è troppo, è inutile farli. Ma non per scelta clinica sbagliata. Esatto. Ma non per gli errori, perché c'era stata l'allungaggine, ecco. Purtroppo sì, non posso aggiungere molto, posso semplicemente dire che c'è un secondo tema su cui andrebbe stuzzicato chi parla di burocrazia. Andiamo a vedere il piano terapeutico di cui si parla, cosa potrebbe essere, perché qui siamo nel campo, come si dice, delle centopertiche. Vorrei capire se il medico di famiglia redige un piano terapeutico in tema di antivirale, quali possono essere le cose che gli possono creare dei problemi e che possono rendere impossibile una prescrizione efficace, o la possano rallentare o scoraggiare. Questi sono fattori che poi li possiamo leggere tranquillamente tutti dalla scheda tecchia, compreso dal professor Bassetti, perché non è che abbiamo... Adesso ditemi che Bassetti la usa da vent'anni questi farmaci e ha esperienza di noi. No, nessuno di noi lo può sapere. Abbiamo la scheda tecchia, abbiamo delle sperimentazioni e con quelli ci fidiamo. Andiamo a vedere un attimo, poi abbiamo parlato di tempistica, no? E poi di alcune categorie che possono fare, che poi non è che lo possono fare tutti questa terapia. Ci sono alcune categorie. Allora, abbiamo preparato una grafica che intanto fa vedere quali sono la tempistica. Allora, la tempistica dei farmaci antivirali sono entro cinque giorni dalla risordia della malattia. Giusto? Sto sbagliando o no? Sto dicendo giusto. No, abbiamo detto. La parisiana è entro cinque giorni dalla risordia della malattia. Quindi ovviamente però in questi cinque giorni noi ci dobbiamo mettere un tampone, che un tempo era pure molecolare. Però a parisiana ci metteva due giorni per farlo. Adesso fortunatamente quei rapidi col coi si risolve. Poi la seconda è chi può farli? Eccosi qua. A chi fa somministrato? Ci sono delle categorie specifiche a cui dovrà essere somministrato. Perché non è che tutti lo potranno avere. Perché gli studi l'hanno fatto per persone fragili, tumori in fase attiva, insufficienza renale cronica, broncoprenopatia severa, immunodeficienza primaria acquisita, obesità, malattia cardiovascolare grave, scompenso cardiaco, malattia coronaria, cardiomiopatia, diabete, melito non compensato. Queste sono le categorie che potranno fare, che poi sono le stesse di prima. Non solo, ma quei pazienti che io inviavo prima al centro specialistico per fare il monoclonale o il retrovirale e che adesso potrei, potrò prescrivere in prima battuta, li conosco sicuramente meglio io dello specialista al quale arriva una scheda. Quindi quando il professor Pippetto, non mi ricordo come si chiamasse, dice Noi specialisti siamo in grado di capire le complicanze, le cose, tanto se le prendono a casa le compresse, quelli vanno in ospedale, gli danno una scatoletta e se la prendono a casa. Pazienti che conosco io molto meglio dello specialista e che nell'eventualità di una complicanza chiameranno me, non chiameranno lo specialista che non li conosce. Quindi quando io mi sono espresso come mi sono espresso, non era soltanto polemica, ma era una constatazione di fatto. Certo, se io una cosa non la conosco, non imparo a conoscerla. Quindi quando i medici cominceranno a manipolare, maneggiare questi farmaci con più tranquillità, sicuramente le eventuali complicanze dello specialista potranno sicuramente diminuire, ma sono le stesse complicanze che c'è a lui, perché questo farmaco specialista non lo conosceva, lo ha conosciuto una settimana fa. Non lo conosceva e non conosceva soprattutto il paziente, perché non lo ricordiamo, non dimentichiamo mai l'impatto differente che c'è uno stesso farmaco sulle persone. E quindi chi meglio effettivamente di chi lo segue nel territorio può essere in grado di integrare l'azione terapeutica portata dalla molecola di nuova generazione che ci viene messa a disposizione con l'efficacia terapeutica che è anche il to care in luogo del to cure unicamente, quindi il prestare attenzione a tutta una serie di caratteristiche fisiopatologiche che ha quella persona e che il medico che lo segue da anni, ha negli anni, ha avuto la possibilità di seguire. Quindi credo che, insomma, in sintesi questo sia un momento molto importante e mi riconnetto idealmente anche io a quello che la volta scorsa ha detto il dottor Miserendino. Il vaccino per me resta un'arma primaria, importante e del resto abbiamo le cifre per poterlo indirettamente desumere, ma la terapia accipicchia se non è importante pure la terapia. La possibilità di poter intervenire, soprattutto adesso, in cui tanta tra virgolette zavorra costituita da quelle infezioni da covid gestibilissime al domicilio senza grossi problemi che stiamo vedendo pure in questi numeri ancora importanti, adesso è proprio il momento, anche con questi nuovi farmaci che abbiamo, di poter seguire meglio e chissà che non riusciamo a ridurre questo maledetto tasso di 140-150 morti al giorno che al momento costituisce una silenziosa tragedia, una silenziosa guerra combattuta senza proiettili o meglio con proiettili invisibili e quello che diceva il dottor Sabatini, immaginiamo una cittadina appunto di 45.000 persone come ne abbiamo tante nel nostro paese che ogni mese scompare. E questo è francamente inaccettabile. Chissà che un uso appunto importante e consapevole di questi, mirato di questi nuovi farmaci, visto che sono state elencate delle patologie, chi di noi non ha queste persone anche in un buon numero nel proprio database di pazienti? Pensiamo semplicemente al discorso dell'obesità in continua crescita nel nostro paese e nel mondo occidentale in genere. E chissà che questo non possa essere l'elemento che abbatte questo numero di morti, che non li fa arrivare in terapia intensiva, che vengono intercettati. Basta che, questo è importante, non mi stancherò mai di dirlo, sia procedure semplici. Perché se cominciamo a fare 4-5 passaggi e a buttare nel water, scusate il paragone volgare, il tempo, se lo utilizziamo a regione veduta, probabilmente possiamo fare qualcosa di buono. Perché ho timore che c'è anche una scheda acclusa da riempire, che sarà una cosa fantascientifica, dicono che quindi non va bene, comunque adesso questo lo vedremo quando esce fuori la gazzetta. Però io vorrei dire una cosa, e lancio una cosa a Mauro su a Milano. Io dico, questa qui è una cura che viene presa, e deve essere presa, entro 5 giorni l'abbiamo vista, no? Ma una reale cura, non è, questa dovrebbe essere un'alternativa, non al vaccino, ma un'alternativa rapida nel momento in cui io incomincio a vedere le brutte, no? Ma una vera terapia è ancora lunga da avvenire per la persona che arriva e arriva con la dispnea all'ospedale. Perché in quel caso manco questi farmaci si stanno. Quindi la vera cura non sarà questa, magari sarà quella futuribile che quando uno si aggrava ha tracche della possibilità di prendere, come un mal di cola, si aggrava, si prende l'antibiotico, no? Perché c'è le placche, no? Capito? Non sarà, questo è un primo approccio, e il successivo dovrà per forza essere questo. Questa è una bella domanda. Io non vorrei che con un antivirale come questo qui, che vantava inizialmente dei numeri meravigliosi, non per fare pubblicità, perdessimo la chance di capire se è questa la reale cura. Cioè, magari abbiamo il campione in casa, perché magari costa, è costoso il campione, però ce l'abbiamo in casa e facciamo lavorare. Il problema grosso, secondo me, è che la polmonite di per sé è una malattia che non ho mai visto. La malaria c'era il chinino. Ammesso che ci fossi, ho i miei limiti. La polmonite non mi sembra che abbia dei chinini. Ecco, questo è quello che temo. Questo tipo di polmonite no. No, perché questo tipo di polmonite no. Ad esempio, la polmonite, quella a premococco, la polmonite batterica, c'è l'antibiotico, che quando uno sta aggravato lo prendono l'antibiotico e risolvono il problema. La cistida è complicata, quella a battere, risolvono anche quella. Capito? Quindi, alcune cure ci sono, no, perché prendono la malattia in fase acuta. Io soffia, è un qualcosa che previene, deve essere bravissimo nel seccare quei cinque giorni, la divorciata della persona. Però, non è che quando poi ti ricoverano all'ospedale, dicono, ah beh, però c'è questa cosa qui che ti cura, capito? E quindi, ovviamente, la percentuale che magari arrivi un po' in ritardo, arrivi troppo presto, arrivi troppo stretto, arrivi troppo lungo, ci invalida. Potrebbe essere così, ma... Al tempo, la dico brevissima, è molto costoso l'anticorpo monoclonale. Non vorrei che, al di là dei dati della letteratura, anche questo fosse stato utilizzato troppo poco. Che ci fosse magari, ecco, che ci fosse magari un qualcosa che potesse essere utilizzato di più o magari non vengono fatti, io penso che vengano fatti i studi sull'acuto, non credo che ci sia la difficoltà di farli, non penso, insomma. Ho visto persone che mi hanno detto di efficacia verso pazienti che stavano veramente messi male e allora a questo punto mi dico magari vale tanti soldi quanto si spende. e per questo è una cosa. Allora, il passo successivo sarà di specificare o di sperimentare questi farmaci nella fase acuta, no? Ma certamente. Bisogna cominciare ad avere facilità d'uso con questi farmaci perché più si utilizzano, più si capisce bene quali sono i limiti del funzionamento. E probabilmente quei cinque giorni che sono stati detti all'inizio potrebbero diventare anche otto o dieci o potrebbero diventare tre, chissà. Però se uno non li usa... Ma mi voglia di fare come mi pare, insomma. Però io dico... In questo momento? Dico, bisognerebbe anche smetterla di aver paura della medicina generale come se fossimo un mostro a tre teste che so io un monoculo. Ci hanno dato pochi vaccini vi ricordate l'anno scorso la campagna vaccinale antinfluenzale e non si capiva perché ci avevano tutti i vaccini i medici medici del genere non ce l'hanno. Ci hanno dato pochi tamponi all'inizio e si diceva no perché i medici non vogliono non possono non fanno pericoloso e quant'altro. Adesso cominciano a ostacolarci tentano di ostacolarci anche su questo. Su! Siamo tutti dalla stessa parte della barricata quella che combatte la malattia. Sì salvo poi dire dottor Sabatini che la medicina generale è la grande assente perché prima viene ostacolata nell'avere nel distribuire nel muoversi nel curare eccetera eccetera e poi disinvoltamente si dice c'è stata una grande assente la medicina generale mentre le farmacie le farmacie hanno fatto se non ci date gli strumenti io quegli strumenti non li posso usare se ci date gli strumenti state tranquilli che collettivamente parlando siamo in grado di fare la nostra parte nessuno usi facile demagogia per continuare a dire come è stato fatto fino ad oggi anche su importanti organi di stampa che la medicina generale ha deluso la medicina generale ha tradito l'aspettativa perché non è assolutamente vero andatevi a vedere quanti sono i ricoverati quanti sono il totale dei casi infetti fate una bella sottrazione come si faceva in i tempi e tutti gli altri li ha curati il territorio sa chi li ha curati forse si sono curati da soli o forse hanno sentito il loro medico l'hanno contattato sono stati visitati sono stati seguiti chi lo sa insomma quindi ecco sarebbe il momento che mettessimo da parte tutte quante queste cose e facessimo semplicemente le persone serie basta fare le persone serie e ripeto serie con la S maiuscolo e tanti problemi si appianano forse i risultati ne hanno un vantaggio numerico non indifferente oppure facciamo come hanno fatto in Svezia che hanno c'era la pandemia e hanno fatto finta di niente andiamo a vedere il servizio anziani lasciati morire uso mascherine scoraggiato e dati manipolati morfina al posto dell'ossigeno uno studio su Nature Strong al modello svedese con un approccio al covid ad il poco disastroso gli autori dello studio sono scienziati dell'università di Belgio della Svezia e della Norvegia che hanno esaminato articoli scientifici rilevanti durante la primavera del 2020 molti individui non sono stati ricoverati negli ospedali l'Agenzia della Salute Pubblica in base a quanto si legge nel report ha negato o declassato il fatto che i bambini potessero essere infettivi utilizzando gli stessi per diffondere la malattia insomma un quadro che scopre una realtà tutt'altra che dell'Ieca ed un'incapacità di fondo a gestire la pandemia allora qui si parla c'è un resoconto di questo articolo apparso sulla rivista Necero dove ovviamente fanno una valutazione di questo servizio l'avete visto allora anziani lasciati morire uso mascherine scoraggiato dati manipolati devo dire a molti anziani invece dell'ossigeno veniva somministrata la morfina nonostante le scorte disponibili poi c'erano ponendo poi di fatto ovviamente fino alla loro vita perché sono anziano che ha una polmonite e l'ossidi ovviamente corrisponde quasi ad ucciderlo molti funzionari ovviamente indicavano come anche qui c'è un coinvolgimento dei bambini praticamente hanno intercettato alcune comunicazioni che c'erano che provenivano proprio dall'Agenzia della Salute Pubblica in cui utilizzavano i bambini negavano che i bambini potessero essere portatori del virus e quindi li lasciavano girare in maniera che il virus girava di più cioè quindi c'è un quadro spaventoso questo qui hanno aperto un tombino bisogna no perché la Svezia era quella che viene indicata come bisogna vedere questi dati a che periodo della pandemia 2020 quindi stiamo parlando di due anni fa dell'inizio il fatto che si è detto anche da noi c'è stato qualcuno sedicente medico di terapia intensiva che diceva che in certi casi in talunicarsi si lasciavano morire gli anziani perché non c'era modo di curarli perché c'erano troppi bisognosi del letto di terapia intensiva e quindi i casi disperati venivano lasciati morire di queste cose se ne sono dette e probabilmente se ne diranno adesso è stato lanciato un sasso nello stagno sta facendo onde mi pare che la Svezia sia un paese civilissimo se poi loro hanno sbagliato immaginando anche da noi si pensava che i bambini fossero immuni adesso di qui a dire i bambini non li vacciniamo perché apparentemente sono immuni è un conto dire lasciamo andare in giro i bambini perché così contagiano tutti è un altro conto cioè è una lettura che si fa dello stesso quindi io starei un po' prudente però non ho nessun motivo per dire il contrario nessuna notizia mi leggo un altro straccio durante la primavera del 2020 molti individui non sono stati ricoverati negli ospedali e non hanno nemmeno ricevuto un esame sanitario poiché non erano considerati a rischio con il risultato che questi individui sono morti a casa nonostante avessero cercato aiuto inoltre c'era un'istituzione di triaci disponibile nella regione di Stoccolma che mostrava che gli individui con comorbidità l'indice di massa corporea superiore a 40 kg al metro quadro età avanzata più 80 non dovevano essere ammessi in unirai della più intensiva perché era improbabile che si riprendessero la cosa mi ha dolore tremendamente in particolare per me che ci ho passato un periodo della mia formazione proprio a Stoccolma all'ospedale Canolische di cui ho un meraviglioso ricordo di quel periodo mi lascia libido perché non ho mai avuto modo di notare come non fosse qualcosa di minimamente al di sotto dell'estrema correttezza nelle procedure dell'estremo rigore metodologico che veniva impiegato in quegli ambienti anche perché è un sistema sanitario quasi integralmente pubblico dove l'attività privata è un'attività privata francamente residuale è consentita assolutamente ma non è così importante proprio perché sono strutture sanitarie d'eccellenza quindi avere letto da più fonti e avere letto anche le risultanze di questo studio di cui uno dei componenti è svedese quindi fa parte di quella stessa nazione mi lascia francamente stare fatto vorrei chiaramente che venisse approfondito di più non ho come il dottor Sabatini non ho mezzi o modi per poterlo controbattere o negare la prudenza però sì la prudenza è d'obbligo perché vediamo un attimo questo su quali dati quali numeri e che cosa soprattutto viene risposto perché io credo che una risposta da parte degli enti sanitari del regno di Svezia ci sia speriamo che ci sia dottor Piserendino mi dica che non è vero tutto questo che sto leggendo o che perlomeno che è tutta quanta un'illazione e che magari ci sia una via d'uscita in tutto questo che è stato scritto su questo articolo ma io non posso dirle che non è vero sono tre studiosi e sono uno belga che è un paese grande densità di popolazione uno norvegese che ha applicato le mascherine eccetera e l'altro svedese che a parità di densità di popolazione della Norvegia ha invece fatto come paese ha scelto una strategia per cui andavano liberi tutti inizialmente e devo dire che la Svezia per questo a noi profani non stava simpaticissima nel 2020 perché eravamo in lockdown e quindi era un po' come dire l'antitesi di quello che era stata la scelta dell'Italia in cui dovevamo credere tutti per non sentirci male cosa devo dire tutto sommato oggi la Svezia che non penso abbia sbagliato particolarmente strategia fino a prova contraria risente di essersi posta diciamo dall'altra parte della cortina c'erano i paesi che chiudevano Germania compresa Germania secondo me aveva una gestione molto buona perché è un paese con tantissima densità altissima di popolazione molto peggio dell'Italia eppure ha avuto dei tassi di mortalità molto bassi e dei tassi di contagio abbastanza sopra il livello di guardia nei picchi ma non terrificanti ecco anche la Germania però ha dovuto chiudere la Svezia non ha chiuso ecco diceva proietti anvidiosi però quando diceva così perché noi abbiamo dovuto chiudere però abbiamo una densità di popolazione molto più alta parlano anche di dati alterati parlano quindi quei dati bassi che avevano loro magari poi alla fine potrebbero essere pure dei dati molto limati ecco possiamo dire pure questa però andiamo a vedere perché è una bella storia questa chieda da seguire allora abbiamo completato la nostra serata un saluto a tutti quanti dottor Sabatini buonasera buonanotte buonasera a tutti io vi volevo salutare visto che lei la volta scorsa mi ha sfidato buona pasto mi ha sfidato allora volevo salutare l'amico Mauro e tutti quanti quelli che ci stanno ascoltando con un sonetto del poeta romano del secolo scorso trirussa che si esprimeva il romanesco Carlo Alberto Salustri e che può una riscossa dei deboli il sonetto si chiama l'agnello infurbito un lupo che beveva non ruscello vide dall'altra parte della riva l'immancabile agnello perché non vengi qui gli ha chiese il lupo l'acqua in quel punto è torbida e cattiva e un porco ci fa spesso il semicupo da me che non c'è pazzi che erbe stiamo il ruscelletto è limpido è pulito l'agnello gli disse accetterò l'invito quando avrò sede e tu non ci avrai fame buona Pasqua a tutti arrivederci dottor Buono buona Pasqua a tutti anche da parte mia speriamo sempre di avere notizie migliori su vari fronti la speranza la speranza c'è ci deve essere questo periodo pasquale ci serva a tutti quanti assieme per ritrovare un momento di serenità e auspicare tutti insieme nei modi che ci sono consoni la fine o quantomeno l'inizio dell'attenuazione di queste calamità che attualmente ci attanagliano auguri a tutti e buona Pasqua dottor Mio Sendino la poesia dell'agnello che c'è questo periodo di Pasqua è una tragedia mi unisco agli auguri del dottor Buono e speriamo vivamente che qualcuno meglio tutti però qualcuno almeno rinsavisca saluto da Ficcanaso in effetti sì speriamo che rinsavisca e ovviamente vi do l'appuntamento la buona Pasqua vi do l'appuntamento tra sette giorni con la nostra sanità e andremo a vedere qualche altro ho in mente un paio di cosette da fare la settimana prossima che io penso che siano oltre in modo simpatici perché ricominciamo un po' a sfrugugliare la bontà di Pasqua ci ha portato a vedere alcune cose però cominciamo un po' a grattare un po' il fondo che cosa c'è in alcune cose che magari pizzicano un pochino buonanotte a tutti vi ricordo le repliche tra pochi minuti sempre su questo stesso canale e poi sul canale del nostro YouTube del Finciazzo TV buonanotte a tutti tra sette giorni e poi Grazie a tutti. Grazie a tutti.